da braccio non proprio ma si che ci viene da nuvoletta nel setare si sta strofinando io non mi sorterei ha paura ha paura della tezza guarda la prima che l'ha presa in braccio lui sente la secondo me se lo alzi se ne accorge che non certo è quella la sua paura è proprio io guarda nuvoletta che felice nuvoletta di burro è questa bella nuvoletta questo è martino questo ha la testa storta inclinata che l'ho recuperato ad agosto come mai? ferito con un buco nella testa e quindi è rimasta la testa così ferito da che cosa? no è uscito dove l'ha recuperato lui? per strada poi ti faccio vedere il video il video è impressionante ed era un altro morto come quella la che era solo ossa ormai morto per terra che nessuno lo voleva prendere il 16 agosto figurati eppure questo aspettava il video però adesso sta bene a parte questa cosa della testa storta? l'estate può darsi sì sì lui si è salvato perché non l'hanno preso le mosche se no perché se gli fanno infezione le mosche